Ciao a tutti ragazzi, buon venerdì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo la puntata di oggi parlandovi di 343 Industries e il suo boss Bonnie Ross, il quale recentemente ha rilasciato tutta una serie di dichiarazioni su Halo 5 Guardians, in uscita lo ricordiamo il prossimo anno in esclusiva su Xbox One. Ne avevamo già parlato qualche giorno fa e viene ribadito il concetto che il personaggio Locke, che è presente anche nella serie TV, avrà un ruolo fondamentale nella trama ed è probabile quindi che succeda qualcosa di molto simile a quanto era successo con l'Arbiter di Halo 2. Il team inoltre sta seriamente pensando di eliminare completamente la numerazione dai futuri capitoli, come già è successo con questo Guardians. L'ultima interessante cosa è che 343 sarà sempre molto aperta al feedback degli utenti ed è probabile che dia loro la possibilità di crearsi la propria playlist per le partite online. E passiamo a Telltale Games che ha recentemente annunciato la data di uscita europea di The Wolf Among Us per Xbox One e PlayStation 4. È stata fissata al 7 ottobre, ossia soli tre giorni dopo l'uscita americana. Lo ricordiamo il gioco è un'avventura grafica in pieno stile Telltale e vi metterà nei panni di Big B. Wolf in un mondo ispirato alla serie a fumetti Fables di Bill Willingham. Insomniac Games ha ufficialmente annunciato l'entrata in fase gold di Sunset Overdrive. Lo ricordiamo un esplosivo free roaming che vi metterà nei panni dell'unico supersite, perlomeno incolume, ad una contaminazione dovuta ad un terribile energy drink, l'overcharge delirium XT. Il gioco è assolutamente di stampo action, ma anche presenta discreta difficoltà dato che tutte le azioni sono regolate da un sistema di punti stile, quindi le kill vanno sempre completate in compagnia di acrobazie spettacolari. La fase gold significa che il gioco ormai è completato e le copie sono pronte per essere stampate e spedite ai negozi per l'uscita quest'inverno. The Last of Us è stato sicuramente uno dei giochi più apprezzati della scorsa generazione. Ci sono moltissimi fan che continuano a chiedere un sequel. In materia si è espresso Ivan Wells, copresidente di Naughty Dog, il quale ha affermato che al momento non ci sono lavori in corso per un seguito del gioco e del resto non cominceranno nemmeno fino a quando alla base non ci sarà una buona idea. Onestamente si tratta di una dichiarazione incoraggiante perché significa che gli sviluppatori non vogliono semplicemente monetizzare il brand ma hanno l'intenzione di creare un prodotto davvero valido. Quindi piuttosto meglio attendere. Nicolas Guerin, Level Design Director di Assassin's Creed Unity, si è recentemente espresso relativamente alla questione dei 30 frame per secondo ai quali girerà il gioco invece che i 60 che tanti fan speravano. Il Level Design Director ha affermato che la decisione della compagnia deriva dal fatto che i test a 60 frame al secondo non avevano restituito una differenza tale da giustificare l'enorme mole di lavoro e forza lavoro anche a livello proprio di risorse umane che sarebbero servite per arrivare ad un'ottimizzazione a 60 frame per secondo. Si è detto d'accordo anche Alex Amancio, il Creative Director sempre di Assassin's Creed Unity, il quale ha affermato addirittura che i 30 frame per secondo potrebbero dare al gioco un aspetto più cinematografico. E come di consueto passiamo adesso alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana spetta di diritto a Microsoft. Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, ha infatti recentemente svelato nel corso di un podcast che ci sono almeno due titoli in lavorazione per Xbox One appartenenti a brand chiaramente iconici per la console. Ne ha citati moltissimi tra cui Halo Wars, Alan Wake, Blink, Fusion Frenzy, Banjo Kazooie, Cameo, Otoji, Knights of War Republic. Ovviamente ha cercato di dirne il più possibile così da rendere difficilissimo per ai fan capire di cosa effettivamente si tratti. Noi naturalmente non vediamo l'ora di saperne di più. E il flop di oggi va invece ad Evolution Studios. Il lancio di Drive Club infatti si è rivelato decisamente disastroso mandando completamente in crash i server di gioco. Ancora adesso è attualmente possibile entrare nelle partite online per chi ha inserito il gioco nella console durante il primo giorno di lancio ma tutti i nuovi arrivati vengono inseriti in delle code piuttosto lunghe e già lo sviluppatore ha confermato come i problemi potrebbero protrarsi anche durante tutta la prossima settimana. Non appena avremo aggiornamenti su questa critica situazione naturalmente ve li daremo. E con questo anche per l'edizione di oggi era tutto. Noi vi diamo appuntamento come sempre al prossimo martedì. Ciao!